Il Napoli è una grande squadra fatta di grandi giocatori che sta facendo un campionato straordinario. E' chiaro che quando si perde contro una squadra provinciale a volte saltano fuori degli interrogativi o delle domande. Io credo che sia giusto anche riconoscere il valore dell'avversario. E' chiaro che il Parma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista qualitativo, a Napoli concede qualcosa. Però il Parma con questi ragazzi di stasera ha dato veramente una grande dimostrazione. E quindi credo che si debba fermare tutto lì. Poi dopo ognuno fa i discorsi in casa propria. Io me ne guardo bene da fare quello degli altri.